Oggi è ufficialmente uscita la mainnet della blockchain proprietaria di Crypto.com che si chiama Crypto.org Quindi Crypto.com è tutto l'ecosistema, app, exchange, eccetera Crypto.org è la blockchain Questa è una notizia molto importante sia dal punto di vista degli holder del token CRO che comunque sarà integrato in maniera radicale in questa nuova blockchain e sarà in grado di dargli un notevole valore aggiunto sia dal punto di vista di chi vuole seguire il mondo della DeFi e degli NFT che saranno due applicazioni estremamente concrete della blockchain Crypto.org già a breve sia per chi appunto vuole cercare magari altri metodi di rendita perché grazie alla blockchain Crypto.org sarà possibile mettere in staking i token CRO con un rendimento del 20% annualizzato circa e inoltre grazie appunto alle nuove applicazioni di DeFi che verranno erogate sulla blockchain stessa saranno aggiunte nuove opportunità di rendita simili per capirci a quelle della Binance Smart Chain È un ecosistema che deve ancora nascere in verità perché è fresca di oggi però conoscendo Crypto.com sono sicuro che lo faranno molto in fretta e quindi ho deciso di fare un video dove andiamo un po' a vedere quali sono le potenzialità di questa nuova blockchain cosa aspettarci e soprattutto come funziona perché se siamo holder di token CRO ci dobbiamo preoccupare della migrazione dei token da ERC20 alla nuova blockchain per poterne usufruire al massimo una cosa alla volta quindi oggi vediamo tutto ciò seguitemi Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti Che cos'è questa blockchain crypto.org e a che cosa serve esattamente? Andiamolo a capire Come vi dicevo nell'intro è la blockchain proprietaria di Crypto.com il cui token CRO prima era un token ERC20 quindi per capirci girava sulla blockchain Ethereum e i suoi use case si limitavano tra virgolette ovviamente ai benefici ulteriori che davano agli utenti sull'app sull'exchange nonché sull'utilizzo della carta e delle varie funzionalità dell'ecosistema Crypto.com Adesso a tutto questo si aggiunge il fatto che il token CRO diventa la coin nativa della blockchain Crypto.org e come tale assume il ruolo che Ether ha sulla blockchain Ethereum BNB sulla Binance Smart Chain e così via Infatti l'obiettivo della blockchain Crypto.org è di creare una piattaforma che sia veloce, scalabile e a basse fee al fine di costruirci e incentivare ovviamente la costruzione di applicazioni sotto tre categorie principali come vedete scritto qua Pagamenti, DeFi e NFT Sul fattore NFT c'è già qualcosa in programma secondo me non sono stati ancora rilasciati molti dettagli ma io penso, è una mia speculazione che sarà un primo utilizzo concreto della blockchain Crypto.org ne parliamo magari alla fine non so se avete letto il fatto che Crypto.com sta per lanciare i suoi NFT e inizierà proprio domani per quanto riguarda la DeFi io mi aspetto applicazioni in stile Binance Smart Chain quindi dei DEX, delle piattaforme di lending sulle quali si potrà ottenere una rendita passiva con gas fee molto basse proprio grazie al fatto che questa blockchain utilizza un sistema simile a quello della Binance Smart Chain per capirci l'algoritmo di consenso è quello del framework Tendermind che è il pacchetto su cui è costruito anche Cosmos che sostanzialmente prevede alcuni validatori è una piattaforma proof of stake in cui ovviamente anche noi possiamo andare a fare staking scegliendo i validator questa è una cosa che vedremo dopo ottenendo anche un discreto guadagno ma la cosa più importante è che si ottiene una blockchain una piattaforma estremamente veloce e estremamente economica in termini di gas fees se andiamo a dare un'occhiata al whitepaper di Crypto.com che è stato recentemente aggiornato integrando appunto le novità della chain possiamo già iniziare a farci un'idea di quelli che saranno gli utilizzi della blockchain stessa nonché del token CRO gli ulteriori utilizzi del token CRO se andiamo a vedere ad esempio a pagina 13 dove c'è la panoramica sulle soluzioni offerte da Crypto.com noi vediamo che nelle tre categorie quella dei pagamenti è toccata direttamente come abbiamo visto poco fa anche ma in particolare noi vediamo sotto Crypto.com Pay powered by Crypto.org Chain ovvero l'applicazione Crypto.com Pay di cui abbiamo parlato tra l'altro nell'ultimo video se vi ricordate a tema Crypto.com è per capirci quell'applicazione che permette di pagare beni e servizi utilizzando le proprie crypto come se fosse una sorta di Paypal l'interfaccia web è simile se un commerciante decide di utilizzare Crypto.com Pay c'è proprio il pulsante paga con Crypto.com Pay si inquadra il QR code e si paga in crypto il fatto che verrà integrato con la Crypto.org Chain che cosa va ad aggiungere a questo servizio? se andiamo a scavare più in profondità sempre nel white paper troviamo anche queste informazioni se infatti scendiamo a pagina 21 e oltre dove si parla proprio della Crypto.org Chain noi in questa tabella vediamo quali sono gli incentivi per i commercianti, i clienti e tutti coloro che partecipano i clienti potranno fare pagamenti in crypto direttamente sulla blockchain stessa e ottenere degli sconti sotto forma di cashback così come già accadeva con Crypto.com Pay standard però in questo caso essendoci meno costi in quanto si utilizza come infrastruttura la blockchain ci sarà la possibilità di ottenere maggiori sconti inoltre la velocità perché l'accesso alle crypto è istantaneo non si devono fare conversioni e soprattutto si potrà utilizzare anche varie criptovalute non solo CRO come era nella versione standard di Crypto.com Pay nonché la possibilità di spendere, vedete, le crypto direttamente dal wallet, da un altro exchange da una qualsiasi piattaforma proprio perché l'utilizzo della blockchain fa sì che non sia necessario utilizzare come endpoint l'applicazione di Crypto.com i commercianti dal lato loro hanno costi ridotti come dicevamo poco fa perché non ci sono più i costi di processamento di conversione e vari costi aggiuntivi dovuti all'infrastruttura centralizzata e inoltre possono andare a vendersi come coloro che accettano pagamenti in diverse criptovalute che è una cosa sicuramente molto innovativa poi ci sono altri ruoli necessari in questo ecosistema di pagamenti i validator che otterranno delle entrate dovute alla loro attività di validatori di questo magari ne parliamo alla fine fa parte dello staking poi ci sono i settlement agents che in sostanza sono coloro che si occupano della conversione perché se il mercante, il commerciante vuole incassare valuta fiat ci vorranno delle entità che andranno a convertire le criptovalute in valuta fiat per poi andarle a bonificare al commerciante di turno in modo che ci sia anche questa possibilità ora rifacciamo qualche passo indietro nel white paper e torniamo alla panoramica delle soluzioni perché non finisce qui noi abbiamo parlato adesso soltanto di pay ma non è l'unica delle applicazioni per le quali la blockchain sarà utile per non dire sarà la base se andiamo a vedere infatti sotto financial services vediamo che c'è una categoria chiamata DeFi offerings Crypto.com attualmente già offre dei servizi nel settore DeFi basti pensare che c'è anche il DeFi wallet che è dedicato esclusivamente a quello però si appoggia sempre a Ethereum in sostanza il DeFi wallet è un gateway una sorta di applicazione per rendere semplice l'utilizzo di applicazioni DeFi però su Ethereum ci troviamo Compound ci troviamo Aave ci troviamo queste piattaforme di lending che però ripeto sono su Ethereum il passo successivo che farà Crypto.com sarà grazie alla sua blockchain di andare a sviluppare o di permettere a terzi perché comunque chiunque può farlo esattamente come è accaduto sulla Binance Smart Chain di sviluppare delle applicazioni di DeFi che possono essere DEX possono essere piattaforme di lending possono essere varie cose infatti se scorriamo un po' più in basso abbiamo qualche dettaglio in più e possiamo vedere che nella roadmap si può già notare che c'è scritto DeFi Borrowing and Landing Launch e DeFi Card che sono due punti che mi hanno incuriosito parecchio Borrowing and Landing io mi immagino una sorta di ave una sorta di compound costruito sulla blockchain Crypto.org che quindi permetterà di utilizzare un servizio simile con le commissioni decisamente minori rispetto a Ethereum il punto invece DeFi Card mi incuriosisce ma non riesco ancora a capire bene cosa sarà esattamente non vedo l'ora di scoprirlo l'ultimo punto che manca da toccare è quello relativo agli NFT io non so se avete letto ieri l'annuncio che è stato fatto da Crypto.com riguardo al lancio appunto dei suoi primi NFT non è stata menzionata in realtà la blockchain di Crypto.org quindi questa è una mia personale speculazione ma visto che comunque nella pagina principale di Crypto.com nonché nel white paper si parla anche di applicazioni legate al campo NFT io credo che prima o dopo anche se magari non subito questi NFT verranno integrati nella blockchain Crypto.org in ogni caso c'è molto hype intorno agli NFT di Crypto.com perché è stato annunciato che domani ci sarà il primo drop attenzione non airdrop ma drop il che significa che non sono regalati ovviamente ma sono a pagamento sostanzialmente in collaborazione con alcuni artisti per il lancio di domani ad esempio ci sarà BossLogic che è un illustratore molto famoso che ha disegnato alcuni poster della Marvel tra cui quello di Avengers ha disegnato per alcuni anime per alcuni videogiochi ricordo una campagna di Assassin's Creed addirittura che aveva disegnato lui una campagna pubblicitaria di lancio e quindi è veramente conosciuto basta fare una ricerca comunque potete vedere con i vostri occhi poi in seguito ci saranno altri artisti anche del calibro di Snoop Dogg e Lionel Richie nonché il partner sportivo di Crypto.com Aston Martin del team il team di Formula 1 e quindi verranno creati anche degli NFT io vedo che qua ci sono già addirittura delle date anche a tema Formula 1 in collaborazione con questo sponsor ci si deve registrare attenzione a Crypto.com slash NFT perché c'è da fare un altro profilo è veramente semplice nel senso non c'è da fare KYC né niente c'è soltanto da registrarsi per essere pronti appunto al drop di domani e seguire poi anche quelli successivi che saranno visibili di volta in volta qua sotto il menu drops qui vediamo il primo e poi i successivi saranno aggiunti di volta in volta qua sotto in un vero e proprio calendario una volta che noi possederemo degli NFT o li scambieremo vedremo all'interno di MyNFTs il nostro appunto portfoglio con le transazioni eseguite ultima cosa che però è la più importante in assoluto dovete ricordarvi di andare a fare la migrazione dei token CRO da ERC20 alla Blockchain Crypto.org la bella notizia è che è estremamente semplice ci sono vari metodi a seconda di dove detenete e cosa volete fare dei vostri token quindi se li detenete o li volete depositare sull'app di Crypto.com è semplicissimo voi spostate dal wallet qualsiasi dove si trovano all'app di Crypto.com e in maniera completamente automatica vi vengono già migrati non dovete fare nient'altro non appena li preleverete potrete prelevarli appunto direttamente come token della Blockchain Crypto.org se utilizzate invece il DeFi Wallet voi vedrete se avete dei CRO al suo interno vedrete proprio la funzione Migrate quindi direttamente da lì con un click sostanzialmente potrete fare la migrazione se al contrario voi avete i token CRO su un wallet esterno su un wallet ERC20 e per qualche motivo non volete andarli a spostare sulla app di Crypto.com potete comunque fare la migrazione lo stesso utilizzando il Web Tool potete utilizzare o Ledger direttamente oppure Metamask cliccando su Open Web Tool si va a finire direttamente qua sul Migration Web Tool dove sostanzialmente occorre connettere il proprio wallet si può utilizzare Metamask oppure anche Ledger in un altro modo lui vi prende l'address che attualmente avete ovviamente associato a Metamask per il Ledger ripeto basta collegare il Ledger a Metamask come abbiamo visto mille volte fare e associare poi da Metamask al Web Tool poi attenzione perché bisogna generare un CRO Wallet Address come si fa a farlo? allora ci sono anche in questo caso vari modi se clicchiamo qui ce li fa vedere ma fondamentalmente quelli che ci interessano sono utilizzando il Ledger Wallet direttamente da Ledger Live se noi entriamo nella Developer Mode dalle opzioni noi possiamo aggiungere direttamente a Ledger l'applicazione Crypto.com Chain ok? la supporta già e quindi da lì possiamo generare un address e poi mandarceli immediatamente lì altrimenti noi possiamo scaricare il wallet Crypto.com Chain che tra poco vi faccio vedere perché serve anche per lo staking se lo si vuole fare e andare a recuperare un address da lì una volta fatto questo e recuperato quindi un address da incollare poi in questo campo si va avanti si viene mandati a una funzione che chiama lo smart contract quindi occorre avere un po' di Ether per pagare le gas fee di quella transazione e in seguito viene fatta la distruzione dei nostri token e rc20 e l'accredito di altrettanti token sul nostro wallet nuovo della blockchain Crypto.org adesso vi faccio vedere l'interfaccia del wallet per chi vuole interessarsi allo staking visto che darà un rendimento ho letto stimato del 20% annualizzato dopo l'installazione del wallet al primo accesso come di consueto mi ha generato le 24 parole del seed e poi una volta fatto questo si è generato come vedete il mio wallet da qui io posso depositare e ricevere come abbiamo detto prima se io faccio receive vedete che mi viene mostrato il mio address di crypto.org quindi della blockchain crypto.org e una volta ricevuti i token verranno aggiornati all'interno del mio balance e potrò poi andare a fare lo staking io adesso non so se è già attivo penso che verranno annunciati tutti i dettagli nei prossimi giorni però qui c'è già la tab staking e la parte dove si può andare a delegare i fondi perché di fatto non essendo noi dei validator dobbiamo andare a delegare per ricevere la ricompensa da qui vedete possiamo scegliere il validator possiamo scegliere l'ammontare dei CRO da andare a delegare a mettere in staking c'è da mettere il campo memo opzionale quindi penso che dipenda poi dal validator o da alcune opzioni e andare a processare la transazione ripeto io non so ancora come funziona quindi non ho non so ancora se ci saranno poi dei tempi di svincolo dei fondi sapete che a volte su queste blockchain proof of stake una volta che si mette in staking poi quando si fa l'unstake bisogna aspettare non lo so 7, 14 un tot di giorni quindi io consiglio di attendere i dettagli ufficiali prima di addentrarsi nel mondo dello staking però sembra che sia veramente tutto pronto andando a tirare le somme quindi su ciò che abbiamo scoperto oggi su questa blockchain nuova il bilancio per me è molto positivo perché da un lato potrebbe andare a dare un grosso valore aggiunto al token CRO che da semplice token che dà benefici sulle sue applicazioni diventa addirittura una coin al centro di una blockchain con la quale si pagano le gas fee che darà dei belli incentivi io mi immagino nell'utilizzo delle future piattaforme DeFi e piattaforme NFT e quindi capite bene che se questa blockchain cresce in termini di volumi in termini di transazioni e di nuove applicazioni che ci si sviluppano sopra questo porta di pari passo poi del nuovo valore per il token CRO inoltre l'avere una nuova blockchain è un grosso incentivo a tutto l'ecosistema perché di fatto si stimola grazie alla concorrenza una crescita più veloce e questo sicuramente è una cosa positiva e inoltre da semplice utilizzatore delle piattaforme DeFi anche se uno non è interessato comunque al token CRO in primis vedere che salta fuori un'altra piattaforma DeFi sulla quale non è necessario pagare fee alte anzi saranno molto basse sarà sicura e darà rendimenti interessanti caspita è un'altra bella cosa perché si potrà andare a diversificare i propri fondi anche lì e ottenere un'altra appunto rendita quindi resta solo da vedere che cosa accadrà ma i presupposti positivi ci sono tutti già che ci sono ne approfitto per scillarvi i miei referral link di Crypto.com se volete qualche CRO bonus se vi iscrivete all'app di Crypto.com e andate a ordinare una carta di quelle premium mettendo in staking un po' di CRO avrete 25 dollari bonus link in descrizione lo stesso sull'exchange lì potete avere 50 dollari in CRO bonus vi lascio sempre il link in descrizione vi ringrazio di cuore per avermi seguito e ascoltato se avete qualsiasi dubbio o domanda fatela mi raccomando nei commenti perché è utile poi vedere anche le mie risposte anche per gli altri se hanno i vostri stessi dubbi vi faccio un carissimo saluto e alla prossima e alla prossima